Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù parla ai discepoli per rassicurarli da ogni paura e per invitarli alla vigilanza. Sono due le sortazioni fondamentali che rivolge loro. La prima è non temere, piccolo grece. La seconda è siate pronti. Non temere e siate pronti. Si tratta di due parole chiave per sconfiggere le paure che a volte ci paralizzano e per superare la tentazione di una vita passiva, addormentata. Non temere e siate pronti. Soffermiamoci su questi due inviti. Non temere. Per prima cosa Gesù incoraggia i discepoli, appena finito di parlare della cura amorevole e providente del Padre, che si preoccupa dei gigli del campi e degli uccelli del cielo e quindi tanto più i suoi figli. Perciò non bisogna affannarsi e agitarsi. La nostra storia è saldamente nelle mani di Dio. Ci rincuora questo invito di Gesù a non temere. Talvolte, infatti, ci sentiamo imprigionati in un sentimento di sfiducia, di angoscia. E la paura di non farcela, di non essere riconosciuti e amati, la paura di non riuscire a realizzare i nostri progetti, di non essere mai felici e così via. E allora ci affaniamo per cercare soluzioni, per trovare qualche spazio in cui emergere per accumulare beni e ricchezze, per ottenere sicurezza. E come finiamo? Finiamo per vivere nell'ansia, finiamo per vivere nella preoccupazione costante. Gesù, invece, ci rassicura, non temete. Fidatevi del Padre, che desidera darvi tutto ciò che realmente vi serve. Già vi ha donato il figlio, il suo regno, e sempre vi accompagna con la sua provvidenza, prendendosi cura di voi ogni giorno. Non temere. Ecco la certezza a cui attaccare il cuore. Non temere. Un cuore attaccato su questa certezza. Non temere. Ma sapere che il Signore veglia con amore su di noi e non ci autorizza a dormire, a lasciarci andare alla pigrizia. Al contrario, dobbiamo essere svegli, vigilanti. Amare, infatti, significa essere attenti all'altro, accoggersi delle sue necessità, essere disponibili a ascoltare e accogliere e essere pronti. La seconda parola, siate pronti, è il secondo invito di oggi. E' saggessa cristiana. Gesù ripete più volte questo invito e oggi lo fa attraverso tre brevi parabole. Incentrate su un padrone di casa che, nella prima, ritorna d'improvviso alle nozze. Nella seconda non vuole farsi sorprendere dai ladri. E nella terza rientra da un lungo viaggio. In tutte, il messaggio è questo. Bisogna stare svegli, non addormentarsi, cioè non essere distratti, non cedere alla pigrizia interiore, perché anche nelle situazioni in cui non ce l'aspettiamo, il Signore viene. Avere questa attenzione al Signore, non stare addormentati. I sogni è stare svegli. Nella fine della nostra vita ci chiederà conto dei beni che ci ha affidato. Per questo, vigilare significa anche essere responsabili, cioè custodire e amministrare quei beni con fedeltà. Tanto abbiamo ricevuto la vita, la fede, la famiglia, le relazioni, il lavoro, ma anche il luogo in cui viviamo, la nostra città, il creato. Tante cose abbiamo ricevuto. Proviamo a chiederci. Abbiamo cura di questo patrimonio che il Signore ci ha lasciato? Ne custodiamo la bellezza? Oppure usiamo le cose solo per noi e per le nostre convenienze del momento? Dobbiamo pensare un po' questo. Siamo custodi del creato che ci è stato dato? Fratelli e sorelle, camminiamo senza paura, nella certezza che il Signore ci accompagna sempre. E restiamo svegli perché non ci succeda di addormentarci mentre il Signore passa. Sant'Agostino diceva Ho paura che il Signore passe e io non me ne accorga. Di essere addormentato e non me ne accorga che il Signore passa. State svegli. Ci aiuti la Vergine Maria, che ha accolto la visita del Signore e con prontezza e generosità ha detto il suo Eccomi. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicta tui venti tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nostri, amm. Ece Ancilla, Domini. Fiat mi, secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicta tui venti tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nostri, amm. El verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicta tui venti tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nostri, amm. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. U te digne, efficiamur promissioni bus Christi. Grazia an Tua, a quesumus Domini, a menti bus nostri sin funde. U chiange renunziante, a Cristi, fili tui, in carnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezionis gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amm. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritu, e Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amm. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritu, e Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amm. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritu, e Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amm. Profidelibus defuntis, in requiem etterna, andonaeis Domine. Et lux perpetua, luce a Teis. Reciechant in paci. Amm. Sin nomen Domini, benedictum. Exog nunc etusque in seculum. Aiuterium nostrum, in nomine Domini. qui felicitis, in seculum et terram. benedictum. Amm. Amm. Cari fratelli e sorelle, desidero salutare con soddivazione la partenza dai porti dell'Ucraina delle prime navi cariche di cereali. Questo passo dimostra che è possibile dialogare e raggiungere risultati concreti che ciò vanno tutti. Pertanto, tale avvenimento si presenta anche come un segno di speranza e auspico di cuore che, seguendo questa strada, si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare a una pace giusta e duratura. Ho appreso con dolore la notizia dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina in Croazia. Alcuni pellegrini polacchi diretti a Međugorje hanno perso la vita, gli altri sono rimasti feriti. La Madonna interceda per tutti loro, per i familiari. Oggi è la giornata culminante del pellegrinaggio europeo dei giovani a Santiago di Compostella, rinviato dall'anno scorso, che era anno santo compostellano. Con gioia benedico ciascuno dei giovani che hanno partecipato e benedico anche quanti hanno lavorato per organizzare e accompagnare questo evento. Che la vostra vita sia sempre un cammino, un cammino con Gesù Cristo, un cammino verso Dio e verso i fratelli, un cammino nel servizio e nella gioia. Ora rivolgo un saluto a tutti voi, romani, pellegrini di vari paesi, in particolare i fedeli di Malta. Saluto il gruppo di Crevalcuori, i giovani della diocesi di Verona e quelli dell'Oratorio Don Bosco di Tolmezzo. Auro a tutti una buona domenica. Per favore non dimenticati di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci.